Nome. Marco Bergamo. Soprannome. Il mostro di Bolzano. Numero vittime. Cinque accertate. Modus operandi. Accoltellamento. Marco Bergamo nasce a Bolzano nel 1966 e da un'infanzia difficile e solitaria. Affetto da un ritardo nel linguaggio già a soli quattro anni, poi l'obesità e la boriasi contribuiranno a scatenare la sua chiusura verso il mondo, introverso e con pochi amici, coltiva hobby come la fotografia, l'automobilismo e le lunghe passeggiate in montagna. Da ragazzo colleziona coltelli, tanto da portarne sempre uno con sé. Di intelligenza media, consegue un diploma e svolge lavori manuali. Nessun precedente penale per lui che, sonnambulo e rotomane, ha comunque qualche piccola perversione sessuale, ruba indumenti intimi femminili. Nel maggio 1992, a soli 26 anni, gli viene asportato un testicolo. Bergamo apparentemente sembra un giovane come tanti, ma si rivelerà presto un serial killer spietato e metodico. È il 3 gennaio 1985, la prima vittima è Marcella Casagrande, 15 anni, viene ritrovata riversa sul pavimento di casa. La giovane viene sorpresa da dietro, le vengono inferte numerose coltellate, vengono sferrati colpi velocissimi come proiettili, uno raggiunge la colonna vertebrale incidendo la decima vertebra, poi la giovane viene tenuta per i capelli affinché il collo resti immobile mentre l'assassino procede allo scannamento. Anna Maria Cipolletti è la seconda vittima, 40 anni. Di giorno insegnante di scuola media, di sera Anna Maria incontra uomini a pagamento, facendo osi pagare molto bene. Viene ritrovata scannata da 19 coltellate, l'assassino le ha rubato gli indumenti intimi, ma non c'è violenza sessuale. La terza vittima è Renate Rausch, di 24 anni, prostituta. La giovane viene ritrovata cadavere in un parcheggio quasi deserto. Il 21 marzo 1992, viene ritrovata la quarta vittima, Renate Troger, prostituta di 18 anni. La giovane viene ritrovata morta in un piazzale, muore per strangolamento, poi sgozzata e sul suo cadavere vengono inferte 14 coltellate. La quinta e ultima vittima di Marco Bergamo è Marica Giorgi, anche lei prostituta 18enne, scaricata agonizzante sul ciglio di una strada dopo essere stata colpita da 28 coltellate. È il 6 agosto 1992, compleanno di Bergamo, che il killer ha voluto festeggiare a modo suo. Marco Bergamo viene arrestato poco dopo il suo ultimo delitto e durante il processo emerge la sua vera personalità. Bergamo è un uomo spaventato dalle donne. Una prostituta al processo racconta. Mi spogliava e basta, mi chiedeva di vendergli la biancheria intima, ma non potevo tornare a casa nuda. Bergamo non aveva amicizie femminili, l'unica relazione amorosa, avuta tra il 1990 e 1991, era durata sette mesi e senza rapporti sessuali. Bergamo odia le donne, di loro dice. La donna è proprio un essere ignobile, egoista, una persona che usa l'uomo, come l'uomo fuma una sigaretta. Dopo un accurato esame psichiatrico, Bergamo viene riconosciuto, seppur con una mente fortemente disturbata, capace di intendere il volere nel momento degli omicidi. Marco Bergamo è stato condannato all'ergastolo. Muore a bollate nel 2017.